Ciao, come state? Siamo arrivati da un'oretta qui a Middlebroath e ieri sera abbiamo suonato a Leicester ed è stato figo perché comunque abbiamo fatto un bel concerto e a fine concerto poi siamo andati in hotel, abbiamo fatto un po' di festa con le altre band e oggi siamo venuti in questo posto vicino al mare dove però fa più freddo che al Polo Nord comunque dopo vi farò vedere il locale molto interessante, molto divertente intanto vi saluto e ci vediamo dopo, ciao!